Artur! Sei tu? Te l'avevo detto che sarebbe tornato. Vieni da lontano? Da dove? Sono cresciuta in un mondo degli anni Ottanta dove i tombaroli erano qualcosa di molto comune. C'erano un sacco di uomini davanti al bar che tutti dicevano, ah quelli sono i tombaroli. Erano uomini che facevano di tutto per non lavorare e di notte andavano a scavare queste tombe etrusche per vendere i manufatti. E poi crescendo, quindi è qualcosa di molto che mi ha accompagnato molto, ero sempre un po' titubante nell'incontrarli perché erano comunque un po' dei maledetti questi tombaroli, erano delle persone che toccavano delle cose che non si dovevano toccare, almeno per me, che facevano delle cose sempre inquietanti un pochino, tipo andare di notte comunque nelle tombe a rubare questi vasi. Però a un certo punto crescendo mi sono proprio chiesta, ma com'è possibile che per 2000-2500 anni nessuno a livello popolare ha mai toccato niente e all'improvviso tutti prendono tutto? C'è stato un cambiamento, è successo qualcosa perché a leggere i diari dei primi archeologi per esempio che hanno scavato vulci tutto era lì, era già affiorato eppure nessuno aveva mai preso niente. Perché? A un certo punto tutti prendono tutto e perché questa cosa accade proprio nel passaggio tra gli anni 70 e gli anni 80? Perché arriva il materialismo vero, quello dell'animo, non il consumismo, non il boom economico, ma proprio il materialismo. Le cose smettono di essere animate e quindi quelle cose, quelle collane, quei gioielli, quei vasi che tanto le persone avevano temuto perché erano non solo cose, erano accompagnate da una storia invisibile che le rendeva intoccabili all'improvviso diventano solo cose e quindi diventano oggetti che si possono prendere, rubare, vendere, diventano merce in quel momento in cui tutto diventa merce e mi sembrava importante da persona nata negli anni 80 raccontare questo passaggio perché in qualche modo adesso faticosamente stiamo per esempio cercando di restituire le storie alle cose e stiamo cercando di iniziare un processo inverso e adesso ci si chiede, non so, da dove viene un alimento che si mangia nessuno si è chiesto da dove venivano le cose, le cose valevano più della loro storia, del loro destino e quindi ho pensato che questa storia dei tombaroli poteva anche raccontare un'altra dimensione cioè il nostro rapporto con la materia. Poi proprio da un punto di vista cronologico come è nato il film è nato da una passione che avevo in comune anche con Pietro Marcello su questo argomento di cui abbiamo molto dibattuto e quindi all'inizio abbiamo intrapreso un percorso insieme di interviste a questi tombaroli Il percorso poi si è arenato perché ci sembrava in qualche modo difficile raccontare un film dove al centro ci fosse comunque l'oggetto, il passaggio di mano in mano di un oggetto ma durante la pandemia quando il nostro rapporto con l'aldilà e con la morte è ritornato a essere un problema collettivo tutti questi racconti dei tombaroli, anche il loro rapporto con la visione che gli etruschi avevano della morte è riemerso nella mia mente e quindi ho poi scritto la sceneggiatura e è nato questo film e credo che ogni volta che ho affrontato un'epoca perché in questi pochi film però mi è capitato di lavorare su epoche diverse la metà degli anni 90, la contemporaneità, un passato di Lazzaro che è un passato fuori dal tempo gli anni 40 con le pupille credo che l'atteggiamento è stato sempre quello di non evocare da un punto di vista proprio come si dice non è una ricostruzione filologica di un'epoca ma è la ricostruzione di una sensazione di un'epoca, di uno sbando di un'epoca e ogni epoca porta dentro di sé il sogno delle epoche che l'hanno preceduta e quindi è chiaro che dentro questi anni 80 in realtà troviamo tanto miscuglio e ribollio di tempo anche perché stiamo parlando di persone che sono in qualche modo intermediari tra il presente e un passato remotissimo e mi interessava quindi questa dimensione di fluidità tra l'al di qua e l'al di là tra il tempo, tra la vita e la morte una sorta di visione fluida questi personaggi che tu chiami eccentrici per me in realtà non sono così tanto eccentrici sarà che vivo in una zona di confine ma molti di loro sono direi i miei vicini di casa o comunque persone che ho incontrato e che frequento e che portano dentro di sé un affaccio ecco è come se fossero tutte persone affacciate a una finestra e questa finestra è una vista su un altro mondo e in qualche modo ci possono permettere anche a noi stessi di affacciarci su un altro mondo c'è una ventata di libertà di cui sento il bisogno forse la cosa che più mi rattrista è quando incontro dei giovani che già vogliono fare il film perfetto e che mi chiedono in realtà non mi chiedono perché sanno che io quella chiave se ce l'ho me la sono proprio buttata alle spalle perché proprio non mi interessava questa chiave del film perfetto però che inseguono il meccanismo che funziona la consolidata la strada consolidata la strada sicura la strada sperimentata efficace sono tutte parole un po' che mi fanno rabbrividire perché il cinema almeno quello che amiamo ci ha raccontato che dobbiamo essere liberi ci ha liberato è questo che lo differenzia poi dalla narrazione seriale quando si parla di serie si parla di ganci di cose che tengono incatenato lo spettatore tu devi creare un sistema che incatena lo spettatore il film ha la fortuna che invece questo spettatore lo può proprio lasciare andare via lo può proprio liberare e si esce da un film con uno sguardo non con una necessità di chiudersi ma con una necessità di aprirsi e quindi cerco di fare dei film che mi piace anche vedere come spettatrice questo in particolare è un film che comunque aveva al centro è una sorta di scansonata archeologia ecco perché non posso dire che è un film sull'archeologia ma dentro c'è tanta archeologia contro archeologia diciamo e quindi con Hélène Louvard la direttrice della fotografia abbiamo deciso di manifestare di tenere con noi anche quei supporti che sono un po' l'archeologia del cinema e ricordarci che la storia del cinema non è solo una storia d'autori ma è anche una storia di supporti la possibilità di ampliare il dettaglio dello sguardo col passaggio dal 16 al super 16 al 35 abbiamo cercato di tenerlo nel film e quindi mi è nato un film che è un po' una chimera che ha dentro di sé un gioco di supporti diversi ha tanti fili diversi però d'altronde siamo state schiave per almeno 2000 anni però una cosa abbiamo imparato a farla a testere sono sicura che nel mio DNA di serva che purtroppo mi porto dietro per almeno 2000 anni di patriarcato qualcosa ho imparato non ho solo preso le botte ho anche imparato qualcosa e ho imparato a tenere insieme tanti fili tanti fili diversi e questa è una qualità delle donne che dobbiamo cantare di cui dobbiamo essere anche fiere dobbiamo esporla questa qualità poi magari non tutti riescono a chiappare tutti i fili però non importa perché alla fine le cose che più mi hanno segnato sono anche le cose che per più tempo non ho capito e quindi forse se tutti i fili di questa storia di questo arazzo non sono facilmente percepibili so che prima o poi lo saranno è qui sotto c'è il casoro orри partito orriba fugito Grazie a tutti.